Gentili telespettatori, buona giornata. E così Ilaria Salis, ormai resa celebre dai giornali di destra, mi hanno reso un'icona europea. Anche perché i giornali di sinistra non se la calcola minimamente, i giornali di destra sfornano articoli sulla Salis dalla mattina alla sera. Probabilmente fanno lo stesso discorso che faccio io, non ci sono notizie, cosa dico contro la sinistra, parlo della Schlein, ho già parlato troppo, parlo di chi, di De Luca, basta, parliamo della Salis. Forse è un po' come in discoteca quando all'inizio, verso mezzanotte, c'è la musica riempipista, quella musica che serve, che chiamano la riempipista. Ecco, forse gli articoli sulla Salis sono fatti perché non c'è nient'altro da dire, allora parliamo della Salis. E io per lo stesso discorso vi racconto quello che i giornali di destra raccontano tutti i giorni sulla Salis. Allora, lei dice, ciao mondo, punto esclamativo, sono Ilaria Salis e questo è il mio account Ix, Ix, Iax, X, no, una volta era Twitter, oggi X, vabbè, terrificante sto X, e dice sono stata detenuta nell'Urgania di Orban, 15 mesi, dove i miei diritti fondamentali non erano garantiti a causa delle mie convinzioni politiche antifa. Possiamo dire che in uno Stato come quello ungherese, di estrema estrema destra, sicuramente un estremista di sinistra in uno Stato di estrema destra non è propriamente ben vista, quindi lei dice che i diritti fondamentali non erano garantiti perché lei era antifa. Allora, vi posso dire sinceramente che io credo che le sue condizioni di detenzione erano quelli che avevano tutti. Le carceri ungheresi sono come le carceri italiane di 30 anni fa. 30 anni fa in Italia c'erano le catene, c'era una situazione igienico-sanitaria terrificante. Voi direte, tu come lo fai a sapere? Guardate, ho visto un film, oh il film! Ho visto un film di Alberto Sordi, detenuto in attesa di giudizio, dove lui gira un bel po' di carceri italiani, perché nel film è proprio la storia, e c'è una fotografia delle carceri italiane degli anni 70, se non sbaglio, che è molto peggio di quella dell'Ungheria. A un certo punto fanno vedere una cosa che doveva essere un bagno, non ho mai visto una roba del genere, non ho mai visto un bagno così. Ecco, questa è una delle cose, poi se voi guardate tutto il film vi accorgete di come erano le carceri italiane, ma noi ci siamo dimenticati, ci siamo completamente dimenticati e parliamo poi dell'Ungheria, oh mamma hai visto che i diritti, anche da noi era così, solo che loro sono un po' più indietro sulle carceri che da noi. Quindi diciamo che l'ospitalità riservata alla Salis in carcere in Ungheria era la stessa riservata agli altri. Certo che lei non era poi così simpatica perché essendo un estremista di sinistra, in uno stato estremista di destra, ma le condizioni carcerarie che lei aveva erano quelle di tutti. Poi lei ringrazia tutti i suoi elettori che l'hanno eletta al Parlamento europeo, l'hanno fatta uscire dal carcere e dice se sono qui adesso è grazie a tutte quelle persone che mi hanno sostenuto votando e impegnandosi nella campagna per la mia liberazione e per la libertà di tutti gli antifa. Sono molto grata a tutti voi, continuiamo a lottare insieme. Allora, la libertà di tutti gli antifa. Io sono convinto della libertà di tutti gli antifa se questi antifa non hanno fatto niente, ma se questi antifa hanno commesso qualche cosa di illegale, allora devono subire le conseguenze delle loro azioni. Quindi, la libertà di tutti gli antifa. Quindi se tu ti definisci antifa puoi combinare quello che vuoi che devi essere liberato perché sei antifa. Allora voi commettete un crimine e poi davanti al giudice dice guardi che io sono un antifa. Ah, scusi, ma poteva dirlo subito, no? Se lo diceva subito che era un antifa, fatelo uscire, per favore, fatelo uscire, arrivederci alla prossima. Ecco, non è che se uno si definisce antifa può fare quello che vuole. Quindi lei fa la campagna per la libertà di tutti gli antifa. Ma che cacchio vuol dire? Vabbè, insomma. Dice sono molto grato a tutti voi, continuiamo a lottare insieme. Allora, quelli che l'hanno votata per farla liberare non hanno nessuna intenzione di lottare con lei per la liberazione degli antifa. Quelli che l'hanno liberata, quei 175.000 persone che hanno scritto il suo nome, sono persone che volevano liberarla. Che se non ci fosse stata lei da liberare non avrebbero mai votato AVS. Quindi volevano liberare lei perché si erano messe in testa di farla liberare, ma non credo che quei 175.000 siano con lei per liberare tutti gli antifa. Non credo proprio, assolutamente. Quindi quel continuiamo a lottare insieme, guardi Salis, che quelli che l'hanno votata non hanno nessuna intenzione di lottare con lei per lotte immaginarie contro gli antifa da liberare. Ecco, hanno votato per farla liberare, ma è finita lì. E dice poi, credo fermamente che se vogliamo superare la crisi economica, sociale ed ecologica, l'Europa e il mondo intero debbano abbracciare i valori della solidarietà e dell'uguaglianza. Per realizzare questo cambiamento dobbiamo fare affidamento sulla meravigliosa energia e sulla forza collettiva dei movimenti sociali di tutti coloro che sperano e lottano per un mondo migliore. La solidarietà sia il faro dell'Europa. Allora, solidarietà, uguaglianza, love, 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 pace, amore, sono tante belle parole. Però poi guardiamo quello in Corea del Nord che lancia i missili, quell'altro stato dove la gente cade dalle finestre e ci accorgiamo che un mondo di solidarietà, uguaglianza è utopia. Purtroppo è assolutamente utopia. Quindi abbracciare i valori di solidarietà e uguaglianza, sì, va bene, ma è utopico, non si va da nessuna parte. Ecco, superare crisi economica e sociale ed ecologica con solidarietà e uguaglianza, uguaglianza, sì, ma non si può fare, è utopia. Arrivederci e grazie.